Rossana Zambelli, siamo all'Expo, è la quinta giornata di Cia in Expo e le parole di oggi sono state lavorate, pensate intorno alla ricerca e innovazione per l'agricoltura del futuro. Quali sono queste parole? Le risultate sono state molto evidenti, sono crescita sostenibile, redditualità, diplomazia agricola, spreco culturale, quindi queste danno veramente il senso che quando parliamo di ricerca e di innovazione parliamo veramente del futuro. E mi è giusto moltissimo questi lavori sottolineari, la diplomazia agricola e spreco culturale perché effettivamente solo con una cultura diversa l'innovazione e la ricerca possono produrre effetti importanti. Quindi futuro, futuro, ma un futuro che inizia con un cambio culturale e con una capacità di stare insieme. Un passaggio importante nel suo intervento è stato dedicato alle tre grandi crisi che stiamo vivendo, economica, ambientale, alimentare e sul ruolo dell'agricoltura del settore agroalimentare. Che cosa potrà e dovrà fare? Che sta già facendo? Sì, perché l'agricoltura, soprattutto che venga riconosciuta all'agricoltura questa grande capacità di affrontare queste crisi, che sono le crisi del ventunesimo millennio e che questi giorni, come vediamo, nella crisi economica che si è tradotta in una crisi alimentare, quello che sta provocando. Quindi l'agricoltura, siamo in Expo, siamo in questa grande sfida di nutrire il mondo. Se riusciamo a nutrire il mondo probabilmente anche i cittadini, anche le persone possono stare in pace nel loro paese. Grazie.